Il comune fa la sua parte ma molto devono farlo i cittadini. Giovanni Maria Cuofano interviene sulla presenza dei rifiuti in via Lamia alle spalle dell'autogrill della Napoli-Salerno. Una zona che si trasforma in terra di nessuno nonostante l'impegno dell'amministrazione comunale di Nocera Superiore in termini di prevenzione, repressione e pulizia. A Palazzo di Città c'è tutta la disponibilità di pulire l'area ma lo sforzo deve essere collettivo, non solo denunce a fatti compiuti. L'amministrazione Cuofano approfitterà del nuovo piano urbanistico comunale per mettere in atto un rilancio totale della zona. Su via Lamia siamo già intervenuti con l'assessorato all'ambiente e con la Polizia Municipale che monitora questa parte di territorio. Ricordiamo, parliamo di una parte che ricade a ridosso della Pavese per intenderci. Questa zona è stato già oggetto di bonifica più di una volta ma non possiamo noi sostituirci a quella che è l'inciviltà di pochi e dunque a noi il compito di sensibilizzare, sì di reprimere ma soprattutto a ciascuno di noi avere comportamenti più virtuosi e più civili. Lì però è in previsione anche una riqualificazione che dovrebbe svilupparsi man mano che si renderà operativo il piano urbanistico comunale ed è un intervento di riqualificazione che sistemerà non soltanto la viabilità di quel tratto di strada ma consentirà anche di valorizzarlo in termini artigianali e commerciali.